ciao ragazze ciao ragazzi allora nuovo video make up questa volta perché questo non è halloween per me perchè tanto halloween non ho festeggio però ho voglia di truccarmi con voi in diretta dunque non so cosa riuscirà fuori però voglio truccarmi un po diverso come trucco sempre non so ancora cosa riuscirà fuori appunto e niente andiamo subito al dunque aspettate un secondo allora dunque sto utilizzando sta palette della zoeva opulence di zoeva eccola qua vedete questo qui l'ho presa su sefora ma tanto tempo fa ed è molto buona mi sto strapiacendo quindi allora ragazzi vado a utilizzare questo blu questo blu qua che non mi stia tanto bene ma lo utilizzo perché questo mese si sta festeggiando in tutta italia halloween e quindi ho voglia di fare un tema halloween anche io vedete questo blu è che tanto poi vado a truccarmi tanto aspettate che vado a munire di specchietto eccoci qui allora mi sono munita di specchietto ok non so ancora cosa fa perché non ne ho idea tra l'altro la parma è molto oleosa io non lo so cosa ne c'era fuori secondo me ne c'era fuori una schifezza però tentare la nuova c'è ok questo specchio è veramente aspetta un secondo eccomi allora sì è fattibile diciamo tra lui va benissimo adesso guarda di qui l'ho preso fuori troppo e lo sbagliato troppo il pennello adesso vediamo un po cosa fa sì 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 bello questo trucco mi sta piacendo appunto perché stile ha lui quindi va benissimo ah ricordati questo questo video va su tiktok direttamente ragazzi che siamo su tiktok allora se volete seguirmi potete mi segui perché vi aspetto molti ieri ok io non so come fare l'altro a truccarsi in diretta così io non riesco più di quando forse ho perso un po' la mano può darsi poi allora trucco sarà senza correttore perché sia la stile fantasma stretta tipo con un po' di gote truccate nel senso il blush però tipo la sposa fantasma non lo so avete capito secondo me la la trama che voglio fare su questo video non so come la sposa cadavere con me veramente la sposa cadavere mi è piaciuto un casino non ho ancora visto il drama di quella cosa lì però mi piace un botto quella cosa lì la sposa cadavere è bellissimo solo che io al contrario di lei le mie occhiali sono quelle che sono quelle che sono le mie frignacce allora mettiamo una pena di mascara sempre con un piccolo mascara nell'occhio allora allora ok abbiamo detto niente correttore si però un po' i bracci ce lo mettiamo vero? eh sì se trovo dove ho messo i pennelli ah sì vedete come dimentico tutto? vabbè eccomi qua allora come blush ho pensato di mettere questo della Rimmel maxi blush solo qua questo vedete e niente questo metto allora si spolvera un po' però vabbè vedete ecco qua devo mettere quindi ho detto qui ho la serie accanto quindi potete bene capire come sono messa ne metto pochino non molto tanto sembra la sposa cadavere ho tenere dei commenti un po' maliziosi però chi se ne l'avete fatta di altro non solo dei commenti malefici non solo dei commenti malefici punto qua come rossetto non metto nulla ne sto sobria non vedo mettere un rossetto rosso sangue non lo so vabbè non ne ho idea sinceramente allora come rossetto ho deciso di mettere anziché stare con le labbra naturali senza nulla questo di Wicom questo qua vedete questo si ecco qua e la sposa cadavere è pronta non so se questo look mi può piacere però ho cercato di fare del mio piccolo nulla spero che questo video vi sia piaciuto e se è così non so seguitemi mettete like quello che volete e ci vedremo per altri trucchi o anche per video che ricci come questo di oggi come questo di oggi e noi ci si vedrà appunto in un altro video sempre qua su tik tok ciao ragazze buon halloween a tutti e buon proseguimento di giornata ovunque voi siate ciao un bacio ciao 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 ciao